L'intimo che fa sentire bene ogni donna in ogni momento della sua giornata, in ogni fase della sua vita, in ogni storia d'amore in cui si senta coinvolta. Nel quotidiano, nel lavoro, nei momenti più intimi della nostra vita, storia d'amore vuole essere il brand che ci dà energia, consapevolezza di sé, che esprime il nostro essere romantico e appassionante. In ogni storia d'amore è un viaggio.